Musica 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 Il minino laser che vedete posizionato sulla testa di Messiorno sta ad indicare dove avrà colpito la freccia che partirà dall'ultima balestra. Il minino laser che vedete posizionato sulla testa di Messiorno. Non è ancora finita, si torna dietro nel tempo, si torna ai tempi di Guglielmo. Il minino laser che vedete posizionato sulla testa di Messiorno. Grazie. 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 Grazie per la visione!